I militari del gruppo Carabinieri Follestare di Salerno, a seguito di controlli nei pressi della zona industriale del comune di Contursi Terme, hanno scoperto alcuni cumuli di rifiuti in prossimità di una ditta di lavorazione di pomodori. I militari hanno riscontrato che nel piazzale antistante all'azienda vi erano tre diverse aree in cui erano depositati rifiuti speciali anche pericolosi, costituiti da fanghi derivati dalle operazioni di lavaggio. Rifiuti metallici, fusti in alluminio, vuoti contenenti in origine sostanze chimiche ed altri barattoli di alluminio in avanzato stato di ossidazione per un quantitativo di circa 120 metri cubi. Dall'esame della documentazione richiesta ed esibita in relazione alla gestione dei rifiuti sopracitali dal titolare dell'azienda, è emerso che i limiti di legge prescritti per la corretta gestione del deposito temporaneo di rifiuti erano stati violati e che parte dei rifiuti non risultava in alcun modo tracciabile. Pertanto, sono state poste sotto sequestro le aree di rifiuti speciali, i vi depositati in maniera illegale ed è stato deferito all'autorità giudiziaria e il titolare dell'azienda per il reato di deposito incontrollato di rifiuti. A seguito di altro controllo nel comune di Buccino, presso uno stabilimento di allestimento o costruzione di veicoli e rimorchi, sono stati rinvenuti circa 65 metri cubi di rifiuti, tra pericolosi e non costituiti da plastica, polistirolo, cartone, contenitori di vernici e carta intrisa di vernice, stoccate alla rifusa in cassoni. Tra l'altro, i rifiuti non erano tracciabili. L'attività in questione è risultata oltretutto non accensita dalla Camera di Commercio e sprovvista dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, così come previsto per le attività di verniciatura e riparazione di carrozzerie. Sono stati messi sotto sequestri cassoni con rifiuti allo stabilimento di circa 1000 metri quadri ad uso dell'azienda ed inoltre il titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria per l'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.